Benvenuti nel mondo degli orologi Leroy. Leroy è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1785 a Parigi, in Francia. Dopo aver acquisito una vasta conoscenza e competenza nel campo dell'orologeria, Basile Leroy aprì il suo atelier di orologi a Parigi, dove iniziò a produrre orologi di alta qualità. Oggi, Leroy continua a produrre orologi di lusso di altissima qualità, con una vasta gamma di modelli che spaziano dal classico al moderno. Tra i modelli più noti del marchio si annoverano il cronometre observatoire e il cronometre a tourbillon, tutti caratterizzati dalla massima precisione e dall'eleganza distintiva del marchio. Leroy è un marchio di nicchia, che si rivolge a un pubblico esigente e raffinato, appassionato di orologeria di alta gamma. Gli orologi Leroy sono disponibili solo in un numero limitato di negozi selezionati in tutto il mondo, il che li rende ancora più esclusivi e ambiti. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso di altissima qualità, capace di coniugare l'eleganza senza tempo con la precisione più sofisticata, Leroy potrebbe essere la scelta giusta per voi.